Ragazzi ci siamo ci siamo annuncio incredibile potenziale 100x potenziale 1000x ne parliamo nel video di oggi benvenuti sul canale ragazzi qui Mickey Business il canale che parla di come fare soldi online marketing business mindset crescita personale crypto trading copy trading tutto quello che ruota al mondo del cash dei soldi se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale ok ragazzi oggi parliamo di una crypto che io ritengo io l'ho chiamata la solana che deve ancora farcela e che in questo momento potrebbe veramente farcela ragazzi e stavo parlando di redix redix ne ho già parlato un po' su questo canale con la crypto meme coin early redix ha appena annunciato ne ha annunciato un paio di giorni fa che finalmente sono orgogliosi di annunciare che xrd redix l'applicazione l'applicazione non mi viene la parola si l'application il modulo il modulo per il listaggio su binance è stato è stato ragazzi emesso ok quindi sono in attesa di approvazione approvazione da parte di binance che probabilmente molto probabilmente speriamo arriverà ragazzi e nel momento in cui arriva l'application in cui arriva l'approvazione su binance che ricordiamo è l'exchange più grande del mondo per quanto riguarda le crypto redix potrebbe pompare di brutto questi non sono consigli finanziari fate le vostre ricerche io vi riporto quello che sto vedendo qua le notizie io ho redix personalmente ho anche delle meme coin di cui parleremo adesso in questo video e ragazzi vi ricordo che se volete comprare redix lo potete fare attualmente su bit get e su bit get c'è la classica promozione di cui ho già parlato nei video del copy trading se volete fare copy trading andatevi a vedere la playlist sul copy trading vi iscrivete col mio primo link avete il 10% di sconto sulle trading p e poi avete sul secondo link la promozione valida fino a fine mese con un deposito singolo di 100 usdt ricevete 100 in cambio sono già entrati in 33 quindi ragazzi continuate ad entrare mi raccomando così ricevete il bonus lo potete usare per tradare e se fate un volume di trading di 10.000 avete altri 100 bonus ok quindi da bit get voi potete comprarvi xrd ok ragazzi e andiamo a vedere il prezzo di xrd che al momento è rispetto al suo all time high che è stato fatto nel 2021 è meno 73% quindi siamo ragazzi veramente in una scontistica assurda ripeto non sono consigli finanziari fate le vostre ricerche capitalizzazione di mercato di 431 milioni ragazzi incredibile 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 opportunità questa io la chiamo la solana che devo ancora farcela perché l'applicazione il wallet è una bomba super veloce transazioni veloci transazioni istantanee ragazzi e le fee inesistenti praticamente è una bomba radix è una bomba e tutto il resto di cui non sono benissimo informato tipo tutto quello che riguarda gli nft le applicazioni ci sono le applicazioni tutta una roba incredibile quindi redix in questo momento è un'opportunità per me incredibile già solo che ritorna in all time high ok arriviamo a 0.5 dollari è un 10x ok ragazzi ma se viene listata su binance poi verrà listata anche su crypto.com verrà listata su tutti i major exchange ok quindi ragazzi fate le vostre ricerche però per me redix ha del gran potenziale inoltre a parte redix ci sono tutte le varie meme coin prima fra tutte early di cui ho già parlato nel canale un milione e sette di capitalizzazione di mercato ragazzi questo vuol dire che solo che arriva a 100 milioni di capitalizzazione c'è 100 milioni sono pochissimi ragazzi andiamo a vedere la market cap di bitcoin lasciamo perdere bitcoin attualmente nella criptovaluta ci sono 2.1 trilioni di euro trilioni non miliardi non milioni trilioni solo bitcoin è un trilione andiamo a vedere per esempio solana solana è 60 miliardi cioè ragazzi redix potenzialmente potrebbe arrivare benissimo adesso magari non in questa bull run però potrebbe pompare qualche miliardo ci potrebbe entrare dentro ragazzi redix già solo per fare un 10x da adesso a mezzo milione mezzo milione abbiamo detto da mezzo milione devono entrare almeno 5 miliardi ragazzi 5 miliardi ci possono entrare nel momento in cui viene listata su binance eccetera lì cominceranno è un po' la storia degli etf di bitcoin nel momento in cui sono entrati etf bitcoin adesso stanno cominciando a entrare dei miliardi dentro bitcoin e il prato di bitcoin salirà ok quindi ragazzi non sono cose impossibili andiamo a parlare di meme coin early un milione e sette se pompa tutto con la loro community che hanno il messaggio che mandano eccetera è sempre una meme coin rischiosissima una shit coin non vale niente però come shiba inu come dogecoin ragazzi dogecoin shiba inu 19 miliardi 12 miliardi la recente pepe dove è pepe pepe 3 miliardi e 3 già solo che raggiunge un miliardo ragazzi è praticamente un cento un mille x mille x no adesso un 500 x ok io ho la fortuna di avere un po di early ce li ho da quando è a 250.000 ragazzi 250.000 quindi io ho già fatto un quasi un 10 x ragazzi e il suo massimo era 4 milioni quindi in realtà ero già arrivato a più di quasi 20 x e ho venduto un po e mi sono tenuto ho detto adesso vado avanti tengo finché finché va ragazzi e ag altra meme coin spaventosa ragazzi è praticamente pepe che abbraccio il abbraccio un cuore questa qui community potentissima wowo wonder woman ragazzi the way qua potenzialmente non solo consigli finanziari fate le vostre ricerche però bitcoin quello che può fare al massimo in questa burran sarà un 2 x un 3 x perché per aumentare per raddoppiare il prezzo bitcoin bisogna che gli entri un altro trilione qua cioè per arrivare a 112.000 bitcoin deve avere 2 milioni e 2 di capitalizzazione ok ragazzi quindi 2 trilioni non milioni scusate 2 trilioni quindi se uno vuol fare tanti soldi con un rischio elevatissimo ovviamente deve andare a prendere quelle cose che sono piccolissime con una capitalizzazione di 5 milioni un milione e se se il messaggio che mandano e la comunicazione che hanno piace potrebbe essere un progetto che esplode io per esempio early ag the way punto molto su reddix ecco ragazzi reddix potenzialmente ha un sacco di potenziale adesso viene listato su binance già solo che reddix viene listato su binance mi aspetto un pump anche delle altcoin dell'ecosistema dell'ecosistema reddix cioè anche solo che ragazzi fa un 10x reddix fa un 10x anche ag fa un 10x anche fa 10x tutto cioè ragazzi qua quindi non sono consigli finanziari un video su reddix che non ne parlano molti in italia non sento parlare di reddix è un po' la solana che deve ancora farcela come ho già detto e secondo me ragazzi c'è tanto 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 potenziale 432 milioni di capitalizzazione solo che viene listato ragazzi ecco che pompa pompa tutto quindi ragazzi mettete mi piace scrivetemi nei commenti cosa ne pensate ci vediamo ad un prossimo video qui mickey business vi saluta e come sempre lucrate lucrate